bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo video di fortnite con un ospite speciale stavolta la prima volta che viene sul mio canale alessandro saluta è la prima volta che porto un video con lui comunque dopo magari faremo un altro video dopo a me non lo vorrei fare un altro su rocchetti ligo va bene con te e mattia va bene iniziamo a fare una partita comunque raga mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like attivate la campanella iscrivetevi anche al canale di victor yt emelsus e jove x09 mi raccomando come ti senti al è una domanda come ti senti la prima volta che tu fai un video che do che almeno così lo carico su youtube come ti senti almeno così dopo tu sei su youtube come ti senti sei emozionato come ti senti tu sei l'ospite parla un po tu sei l'ospite mi senti? si comunque metto alla prova la mia capacità cioè non posso floppare quindi andiamo al corso dai quindi no non è la prima volta che ti senti con un mio amico c'è un dai andiamo 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 non è la prima volta però come non è la prima volta però comunque come ti senti perché comunque su cioè farti vedere su youtube comunque sempre è un'emozione capito mi sento sei tranquillo ma pure io quando non ce l'avevo il canale youtube facevo dei video con un mio amico su youtube buono eh pure io faccio dei video su youtube ma comunque ti ho domandato se ce l'avevi il canale youtube vabbè se tu i genitori non te lo fanno fare non fa niente no no non col mio col suo comunque io entro in questa casa voglio vedere chi c'è cioè voglio vedere chi se ci sono armi mi sento il rumore uh pure ho trovato una mitraglietta si è buggato c'è un po' di mano c'è un po' di mano come c'è qualcuno c'è qualcuno c'è un nemico no no un po' di mano no 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 assalto verde buono io sento un cento io sento spari oh c'è già un nemico eccolo ah lei comunque ci sono nemici oh atterrato bravo due fuori due kill aspetta aspetta io c'è un assalto te lo do vabbè comunque lo lascio qua perché non mi serve c'è n'ho due di giati assalto comunque pure ho fatto una kill perché l'ho atterrato mamma mia raga sto diventando sto diventando troppo forte a fortnite anche a rocket league hai trovato qualcosa io sento un rumore di cesta oh l'assalto vero eh l'assalto vero oh l'assalto vero oggi ce l'ho lo shieldone è buono te ne do uno le shieldone ah me lo puoi dare ti do due shieldini ok andate prendo un attimo questo ok adesso mi serve lo shieldone perfetto andiamo aspetta dammi notare le case quanto non ne ho le macchine ah me lo puoi dare dove sta dove sta la mitraglietta blu non la vedo ah eccola qua eccola qua no ma chi è sono stato lì oh sono stato lì oh che cazzo via scappo via 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 vieni Ale Ale non ti far infugare vieni hai infugato tutta la casa vieni io non ce l'ho mi dispiace se no te lo davo vado a cercare comunque con l'assalto questo qua il fuggito assalto pesante ne ho chiamato uno ho terrato ma tu con l'assalto pesante sei bravo fuggito assalto pesante eppure io abbastanza diciamo così oh pigliatelo pigliatelo comunque sento un altro rumore di cesto mannaggia la tempesta mannaggia via aspetta via Ale aspetta eh non posso rimandare una macchina qualunque eh aspettami se no io muoio aspettami e ci sono delle macchine non è l'unica mi puoi aspettare per favore ma ci sono altre macchine sto venendo ma quanto mancano 59 secondi qua noi moriamo io sono in una macchina sì sono in una macchina vero sto per morire come facciamo mancano 53 secondi ah ma lo aspettami mannaggia perché c'ho 29 di vita io ne ho 43 ehi però c'ho 22 di vita come cacchio facci ma ci hai una macchina sì sto in macchina però sto per morire c'ho 10 di vita mi dispiace eh vabbè ma dai allora vieni ma come vengo scusami eh come faccio che sto per morire eh io sono morto eh scusami ma dai ma perché ma dico io però perché non vengo pure io non voglio venire ma so però tu ormai sei andato io come faccio a venire eh ormai sono morto ho 10 di vita sono morto ciao ma vai prendere pure la schiena di riavvio eh mi spieghi come la prendo che non c'ho vita e ti fai qualche cura e non c'è più aspetta giungo aspetta ecco qua che cacchi hai fatto no niente mi vado a bussare attento uccidi quello uccidi questo uccidi questo che sta per te no attento bravo bravo ma che bravo ha fatto una gravolata hai capito perché non ci siete due bravo prendi le armi prendi il cecchino che ti serve aspetta dammi vedere prima un look generale l'assalto pure un attimo l'assalto l'assalto pesante l'assalto pesante no no hai fatto una bella 4 kg hai fatto 4 kg hai fatto si ciao ciao siamo giocano a portare comunque siamo giocano a portare comunque attento, ci sono due nemici uno a terra non stai attento non ci credo vabbè raga, io posso chiudere questo video Ale io chiudo questo video raga, salutate io chiudo questo video, posso chiudere questo video spero vi sia piaciuto mi raccomando, iscrivetevi al canale lasciate like e attivate la campanella come vi ho detto già prima, iscrivetevi al canale di EmelSus, VictoryYT e JoVix009 iscrivetevi al canale di Fabianus per Steph o YT iscrivetevi al canale di Stefano ok allora iscrivetevi al canale mi raccomando e noi ci vediamo in un prossimo video bella